ciao a tutti sto provando vari bordini per bordare una maglietta che sto facendo questo mi è sembrato abbastanza carino che si presenta in questa maniera come un fiorellino a tridimensionale e volevo condividerlo con voi allora per fare questo bordino numero di mali devono essere multipli a 3 io ho avviato 30 mali e 30 catenelle e ho fatto un giro di mali basse giusto per comodità adesso possiamo iniziare io faccio 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 allora 3 catenelle è uguale a una maglia alta e due servono per separazione giro il mio lavoro che salto una 2 maglie entro nella terza e faccio una maglia alta e adesso lavoro si ripete faccio 2 catenelle che servono per separazione salto 2 maglie di base entro nella terza quindi una 2 entro nella terza e faccio una maglia alta questa lavorazione la chiamiamo rete a file quindi faccio vedere ancora 2 catenelle 1 2 getto il filo salto 2 maglie di base entro nella terza e faccio la mia maglia alta e così vado a terminare il mio giro io sono arrivata alla fine del mio giro e così si presenta il lavoro adesso possiamo fare il secondo giro quindi faccio 2 catenelle 1 e 2 giro il mio lavoro con uncinetto entro qua nella verne il vertice di prima maglia alta e faccio una maglia bassissima che fatto faccio 2 catenelle 1 e 2 giro il mio lavoro sul rovescio e attorno a queste catenelle che abbiamo fatto adesso io faccio 3 maglie alte quindi getto il filo vado sotto le catenelle e faccio 3 maglie alte prima la seconda a seconda fatto è la terza che adesso attorno questa male alta io faccio questo lavoro 3 maglie alte prima la terza che ho fatto 3 maglie alte adesso getto due volte filo e faccio una mezza ma altissima quindi entro sotto tiro il filo chiudo 2 maglie e adesso queste 3 maglie sul uncinetto io li chiudo insieme che giro il mio lavoro sul davanti sul dritto del lavoro ora con filo sul davanti entro in questa sempre da dove siamo partiti qua in vertice allora gestiamo il filo entro qui aggancio il filo e faccio una maglia bassissima e così abbiamo il fatto fatto il primo elemento adesso faccio vedere ancora perché il primo è un po diverso dall'altro che dobbiamo fare allora 2 catenelle 1 2 entro con uncinetto qua nel vertice di una maglia alta e stringo con una maglia bassissima 2 catenelle 1 2 giro il lavoro sul rovescio faccio 3 maglie alte sotto catenelle per momento è uguale ma poi cambia un pochino allora prima seconda e terza che adesso ci troviamo sul rovescio adesso mi giro dal dritto e dobbiamo lavorare attorno questa maglia alta quindi io attorno questa maglia alta prendiamolo comodo faccio 3 maglie alte una 2 e 3 e faccio mezza maglia altissima quindi getto due volte filo entro sotto chiudo 2 maglie e 3 maglie le chiudo insieme che fatto rigiro ancora il mio lavoro ci troviamo sempre sul dritto del lavoro entro qua dentro e faccio una maglia bassissima e così abbiamo fatto il secondo elemento da adesso e poi lavoro si ripete la differenza tra questo fiorellino e questo che attorno questa maglia alta abbiamo lavorato sul rovescio invece da questa parte del secondo e poi lavoriamo sul dritto e vi faccio vedere ancora uno quindi come sempre 2 catenelle 1 e 2 entriamo qua nella vertice facciamo maglia bassissima 2 catenelle 1 e 2 giriamo il nostro lavoro sul rovescio attorno catenelle facciamo 3 maglie alte quindi entro sotto catenelle quindi entro sotto catenelle qui vedete prima seconda e terza lavorazione è molto semplice importante di non sbagliare a girare lavoro quindi sul rovescio abbiamo fatto 3 maglie alte giriamo troviamo così il dritto a me viene più semplice a lavorare tenendolo da questa parte prendetelo comodo e lavoriamo attorno a questa maglia alta quindi facciamo 3 maglie alte una due e tre è fatto gettiamo due volte filo e sotto facciamo ma maglia mezza altissima quindi chiudo due e ultime tre li chiudo insieme ok siamo sempre sul davanti del lavoro reggiriamola bene proprio come si presenta entriamo con uncinetto in questo vertice dove siamo partite agganciamo il filo e stringiamo con una maglia bassissima e questi elementi noi dobbiamo proseguire a fare fino a finire il nostro giro e così si presenta il nostro lavoro vi faccio rivedere questo che al mio parere è di gran effetto spero che questo video è stato chiaro se non avete capito qualcosa scrivetemi nel commento e ci vediamo presto alla prossima ciao ciao